Tommaso! Tommaso! Ce l'abbiamo fatta! Eeeh! No, no, no! Scusa, sono in riunione. Ti posso richiamare? Beh, non lo so quanto dura, speriamo tanto. Guarda, guarda, sai cosa sono? Questi, eh? Collano contenitivi. Se me lo tolgo, la chiappa... Scendi 4 cm. Colpa di Tommaso che c'ha sto vizio di farsi le dulce, sì. Ti capisco perfettamente. Tommaso è farlo così, Sara. Però pure te sei una bella cacacazzo! Eeeh! Io sono Fico! Io sono Fico! Tu sei Fico! Tu sei Fico! Ripetitelo! No, no, ripetimelo tu che mi piace di più. Ma quale entusiasmo! Vai a dirlo a tua moglie quanto è entusiasta quando entra in bagno e si guarda allo specchio e si vede, e si vede tutta unta con i brufoli, i gambaletti, tutta pelosa, piena di peli che non si riesce a depilare, la cellulite, le smagliature. Ma come sei sposata? Sono lei! A me però non fa così! Se no mi piaccia pianta! È normale ragazzi! Se mi metti da guardare queste foto è ovvio che ti viene la pianta! Ma scusami! Tommi, tu so perché ti piangi! No, io non volevo! Scusate, scusate ragazzi! Non parla, non parla! Però aspetta che non abbiamo finito! Non parla, non parla, non parla, non parla! Non parla, non parla! Facciamo piantere, c'è Tommaso? Dai, su Nicole, che succede lì? Che succede? Nicole, che c'è nell'armadio? Gli armadilli! Sì! Viva l'exo tanzi! Ah, mamma mia! Mi è venuta anche un po' di fame! Vediamo che cosa c'erà di spesa! Maia, mamma mia! Maia, non sento me! Salve, sono l'armadillo! Grazie!